Il 16 settembre 2014 Nicola Zaffignani avrebbe festeggiato i 18 anni. Un incidente stradale lo ha strappato alla vita quando ne aveva solo 16. Per ricordare lui e tutte le altre giovani vittime dei sinistri, la mamma di Nicola, Giorgia Compiani, ha pensato alla Notte per gli Angeli, un evento musicale che quest'anno giunge alla seconda edizione. Lunedì 15 settembre la piazza di Corte Maggiore ospiterà una ventina di esibizioni a partire dalle 20. Sono attesi tra gli altri Giacomo e Giulia di The Voice, ma anche tantissimi artisti piacentini. In memoria di Zaffo, così lo chiamavano gli amici e degli altri ragazzi scomparsi prematuramente, alle 19 verrà anche celebrata una messa da don Giancarlo Plessi nella Chiesa dei Frati. Da qui il corpo bandistico, la magistrina, guiderà i presenti fino alla piazza. Molti volontari che renderanno possibile l'evento. Ci tenevo molto a questa cosa, proprio perché spero che con questa serata possano partecipare più persone possibili, dai genitori, familiari, amici, cercare di sopportare questo dolore in un modo diverso, anche perché i modi per poter andare avanti sono veramente pochi. e quindi questo mi sembra uno di quelli più adeguati per non rimanere chiusi in se stessi e cercare di condividere questa cosa.